Salve a tutti ragazzi, bentornati con questo nuovo appuntamento con WWE Supercar, signori, è iniziato il mese di marzo, nuovo Battle Pass, nuovi eventi e signori, è ufficialmente iniziata, lo possiamo dire anche quest'anno, la Road to WrestleMania, signori eh sì, ci siamo, siamo finalmente arrivati all'ultimo mese prima dell'evento degli Immortali e abbiamo un sacco di carne al fuoco, signori andiamo a vedere intanto, fin da subito, quello che ci aspetta questo mese perché è un mese importante, ricordo che Wrestlemania verrà giocato mi sembra il 6 e il 7 di aprile se non vi ho adorato vado subito a vedere, il 6, sabato 6 e domenica 7 aprile, Wrestlemania 40, Wrestlemania XL questa è la Road di questo mese, spero che il volume non sia troppo alto perché mamma mia, aspettate come vedete intanto il Battle Pass non finisce il 31 di marzo ma finisce il 27, mercoledì 27 già qui ci dà un piccolo indizio perché già vediamo c'è una Flash Road to Glory e una Flash Indomination ma ci vediamo, ci vediamo dopo cominciamo subito con il 4 di marzo che è una Superstar Brilla Radiosa quindi probabilmente ci sarà un evento o comunque una nuova special card infatti dovrebbe finire, se non vi ha adorato tra poco anche, fra due giorni forse poco più anche l'evento di Brown Breaker credo quando finisce esattamente, fra tre giorni 10 ore potrebbe essere una nuova special edition card da pullare appunto con dei decollezionabili o qualcosa del genere poi ora non mi viene in mente se sono già usciti gli equipaggiamenti di Rumble o meno mi sembra di sì, se ne sono già usciti il 6 invece è nuova carta equipaggiamento o esce un nuovo equipaggiamento che va ad unirsi insieme alla t-shirt, agli stivali, agli cinocchiere e paradenzi ma potrebbe essere un altro equipaggiamento in più con qualche slot migliore? non lo so, vedremo e prossima settimana dopo questa Last Man Standing di Rare Rifle abbiamo di nuovo una War Games insieme a una Giant Unleashed di nuovo i due eventi più easy insieme potrebbe essere un'opportunità molto molto interessante anche perché poi il 13 esce Fusioni, di che tipo? noi Fusioni ispirate ai momenti iconici della storia di Wrestling Mania disponibili oggi ecco questa roba qui potrebbe essere una camera di fusione a tema Road to Wrestling Mania però attenzione, non nuovo livello come ci fu due anni fa livello nuovo proprio Road to Wrestling Mania ma qui proprio carte di livello si Royal Rumble però con il design ispirato ad una Road to Wrestling Mania comunque una Wrestling Mania in generale come ci furono anche tempo fa vi ricordate anche due anni fa fecero un livello SummerSlam invece di fare un livello SummerSlam 22 fece addirittura il livello SummerSlam con tutte quante le superstar dei vari SummerSlam dei vari anni diciamo non era proprio un SummerSlam specifico ma era diciamo un livello storico e potrebbe essere una sala del genere anche qui però non credo che sia proprio un nuovo livello ma sia sempre il Royal Rumble non credo che metti in un nuovo livello però non avrebbe senso metterlo prima del secondo evento prima dei... cioè prima dei fini comunque la Giant insieme alla War quindi non ha senso questa camera di fusione sarà comunque di livello Royal Rumble ovviamente il 16 marzo ci sarà l'evento a Stone Cold Steve Austin come ogni anno ci sarà una carta al negozio da pullare o qualcosa del genere un mini evento missioni per il nostro WHAT? nuovo evento 3-16 per il nostro Stone Cold Steve Austin e ogni anno c'è qualcosa di fiero vabbè vabbè lì sono quelle carte lì in fusione con il quad era belle quelle mannaggia non so neanche se ce l'ho comunque la data del 20 di marzo invece è molto importante questo perché signori allora il 20 di marzo usciranno delle nuove carte allora pensavo che potessero essere veramente un nuovo livello invece visto che comunque abbiamo una Road to Glory e Ring Domination in Flash poco dopo quindi mi fa pensare che potrebbe esserci l'aggiornamento con un nuovo livello il giorno 27 di marzo ovvero la settimana prima di Wrestling Mania e potrebbe essere a questo punto veramente il nuovo livello Wrestling Mania già da una settimana prima ha senso comincia anche il nuovo Battle Pass direttamente Battle Pass che comincia oggi con una nuova carta a tempo cioè proprio il livello Wrestling Mania 40 ha senso mi fai un Road to Glory una Ring Domination in Flash prima dell'aggiornamento questo dipende la data ormai penso che sia ormai ufficiale 99% il 27 di marzo arriva al livello Wrestling Mania 40 Wrestling Mania XL non so come verrà chiamato ma nel gioco ma sicuramente il 27 ci metto la mano sul fuoco però il 20 di marzo usciranno le carte a tema 2k24 perché adesso mi sembra il gioco appunto ufficiale della WWE dovrebbe uscire in questi giorni dovrebbe uscire il 5 marzo quindi comunque qui si va più avanti con le date però che se vi guardavate in prima stagione nel livello Survivor anzi sopravvissuto le carte erano sia a tema originale del livello ma alcune carte erano proprio con il design a tema del gioco 2014 mi sembra c'era o 2015 non mi ricordo ai tempi quali uscì mi ricordo che c'era appunto il Triple H quello proprio il Lunghi il Wrestler e l'altra carta con il Triple H manager con la giacca mi sembra c'era anche il The Rock in un modo cioè alcune carte a tema quindi è possibile che ritornino o se del genere ok qui saranno sempre carte di livello Royal Rumble non si andrà ancora a Wrestling Mania la prossima settimana probabilmente potrebbe uscire direttamente queste carte qua si 2024 Royal Rumble ma dalla prossima settimana usciranno anche quelle a livello Wrestling Mania potrebbe durare anche di più questa serie di carte ovviamente per pubblicizzare il gioco è tutto pausa caffè però queste nuove carte di livello Royal Rumble avranno appunto il tema del gioco 2K24 il nuovo gioco della WWE su console quindi poi abbiamo detto Rottoglory, Renni, Domination, Flash battle pass del nuovo livello che comincerà il 27 e si ripartirà con una nuova Rottoglory di nuovo papapapum non abbiamo nessun evento classificato questo mese non abbiamo né una People's Challenge Champions né una ok la Last of the Saints è stata adesso quindi non avrebbe senso né una Clash of Champions e neanche una Codebreaker questo mese è vuoto di eventi classificati questa è tutta la road che ci aspetta questo mese signori e in attesa di un prossimo livello noi siamo arrivati al livello 32 grazie alle ultime carte e al ramo che abbiamo pullato anche l'altra sera nel live insieme abbiamo trovato l'ultimo pull reset che era un Randy Orton in draft board il draft board è prestigiosa non ho ancora trovato quello in draft board esclusiva però abbiamo fatto la pro di Sonia Deville e quest'oggi io dall'ultima camera di fusione ho trovato anche il rinforzo io 3 Royal Rumble Fusion ho trovato 3 Sonia Deville si poteva fare di meglio però vabbè sicuramente è un'ottima carta trovare subito una donna pro con due carte e il rinforzo vabbè ci sta ok speravo magari qualcos'altro speravo un CM Punk per dire ma va bene purtroppo le uniche carte che possono essere un CM Punk sono il Undertaker della PCC e sono Deville l'unica carta pro che ho a livello Royal Rumble non ho nessuna carta Royal Rumble normale pro ce ne ho diverse ce ne ho tante ma ancora nessuno riesce ad arrivare a quel livello e niente siamo arrivati al Rumble praticamente metà del livello il nostro livello del rank abbiamo ancora se lì perché a livello 35 arriverà a Vrestling Mania ovviamente quindi ci saranno ancora due livelli e più da superare la strada è ancora lunga signore la strada è ancora lunga abbiamo tante opportunità infatti fra due giorni finirà anche questo no fra 10 euro ok ci sarà l'evento di Brombreaker che finirà fra due giorni tra tre giorni 10 ore abbiamo 106 collezionabili allora a questo punto sicuramente sono arrivato al mio obiettivo che è quello che mi ero prestabilito è arrivare almeno a 100 collezionabili per prendere almeno questo pacchetto con la garantita Royal Rumble la carta garantita Royal Rumble se riesco ad arrivare a 125 il pacchetto è più o meno lo stesso non cambia niente fra questo e questo comunque la Royal Rumble ci sta arrivare a 150 per Brombreaker sarebbe buono se sarebbe buono se avessi già una copia di Brombreaker signori non vi serve a niente trovarne uno solo non serve a niente ormai l'ultimo mese trovare uno solo serve soltanto per avere un collezionabile in più una carta collezionabile in più io quello che consiglio è questo se dagli altri eventi o dallo shop dove vi pare siete riusciti a trovare un Brombreaker specialmente in questo evento gratuito una volta al giorno last one left che io non riesco a farci niente oltre il secondo match non riesco ad andare avanti perdo però se avete preso Brombreaker qua a questo punto provate ad arrivare a 150 per ottenere la pro garantita se dovete arrivare a 150 per prendere una singola carta io vi consiglio di andare a provare a scolare ovviamente un pacchetto minore o se proprio dovete magari riuscite ad arrivare a 200 un lezionabile prendete due pacchetti The Raven con due carte Royal Rumble che a questo punto secondo me a parer mio servirebbe anche di più perché c'è più possibilità di trovare carte pro stessa cosa ragazzuoli vi consiglierei a questo punto visto che è l'ultimo mese ok almeno non siate parecchio indietro con il ranked e tutto magari cercate di accumulare più ticket possibili per andare appunto a pullare quando uscirà il nuovo livello Wrestlemania quindi questo è un mese come ogni anno la road of Wrestlemania in questo gioco è un mese dove serve farmare farmare attendere per appunto andare a pullare tutto quello che possiamo che abbiamo accumulato in questo mese quando uscirà appunto il nuovo livello sono uscite anche le nuove carte qua nel super negozio a tema Limitation Chamber i vincitori della Chamber quindi abbiamo Becky Lynch e John McIntyre che sono veramente le carte con un design veramente bello a me c'è i colori blu e il rosso in questo modo queste sfumature sono belli i colori sono i miei preferiti The Sian Castle Online mi ricordano un po' le carte quelle arcane mi ricordo appunto questo design un po' rosso-blu durano 40 giorni signori 40 giorni queste carte qua però se fate due calcoli fra 40 giorni praticamente siamo nella settimana se non sbaglio subito dopo Wrestling Mania quindi nella settimana del 10 di aprile più o meno per capirsi quindi ci sta cioè ragazzi è chiaro che ovviamente quando uscirà l'evento Wrestling Mania arriveranno anche le carte qua a Wrestling Mania ovviamente usciranno dopo con i vincitori o di Wrestling Mania comunque Wrestler che hanno fatto o main event o match importanti nell'evento degli immortali quindi aspettiamoci comunque delle carte bellamente fiere con un design veramente fantastico io ve lo ricordo verso il 1940 quindi numero tondo quest'anno sarà veramente grosso un evento secondo me per quanto riguarda il nuovo Battle Pass che durerà 25 giorni abbiamo Jade Cargill come nuova carta il zanime è bellino il design carino ci sta non c'è particolari carte il Battle Pass è più o meno è sempre quello rispecchia quello questo giro non non credo di shopparlo io personalmente questo Battle Pass non lo shoppo come ho fatto come Randy Orton anche se se dovesse shopparlo probabilmente mi si aprirà la missione come è successo la volta scorsa dove dovevo forse prendere il secondo Randy Orton come missione finale del Battle Pass Jade Cargill nel nuovo Battle Pass di Supercard prima di concludere questo video vi faccio vedere le ultime carte che abbiamo ottenuto a livello Royal Rumble faccio vedere tutto quanto ok mi piace tenervi sempre al corrente di tutto signori queste sono tutte le nuove carte Royal Rumble che abbiamo ottenuto Battista l'ho ottenuto proprio questa mattina come ultimo pull reset in draft board arrivato a circa 10 ripristini che è molto molto presto perché altra sera in live eravamo arrivati a 235 che era il massimo abbiamo aperto la pesca prestigiosa e abbiamo trovato Randy Orton e niente Battista è arrivato oggi con una decina di ripristini velocemente proprio e queste sono tutte le nostre altre carte ci sono alcune carte ancora da ora allenare specialmente Asuka e anche Lia Valkyrie potrebbe essere interessanti visto che hanno anche la cintura da campione Randy Orton ora io proverei a andare anche in draft board per provare ad ottenere una carta in draft board esclusiva se ci riusciamo uh è la nostra retro carte anche di Seth Rollins è carino questo Vision Revolutionary 2500 sarebbe anche carino e poi per il resto ce l'abbiamo novità comunque questo qua nuovo carino carino oh 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 Liria porca puttana nel mezzo nuovamente io sproperi era difficile è io queste gioie delle tre carte non mai ce l'ho mai fatta quasi mai a farlo altre volte madonna ragazzi signori mi porto a casa una pro con una super pull e ora ho occhio a non eliminare la carta perché sennò si bestemmia sennò qui si tira giù il calendario belle cose e intanto non devono arrivare anche altri gettoni va benissimo vengano tutti quanti molto volentieri venite signori venite oh yeah more xp e ora andiamo a cercarla devo bloccarla subito perché sennò se la elimino mi caverei se elimino mi stacco il capo da solo dove sei dove sei dove sei eccole qua bella vai blocca tutto into the dust lei me la metto subito nel performance non so se l'altra è allenata o meno mi sa di no combinabile la rambul24 entrambi non le ho mai allenate sono stronzo io allora è la prima volta che accade nella storia di supercard del mio canale che faccio prima le pro donne rispetto agli altri wrestler è cambiato tutto è cambiato è tutto into the dust signori e adesso andiamo a pullare questa carta la facciamo scegliere il nostro assistente vocale google vediamo se scudiamo una seconda royal ramble quest'oggi abbiamo ben 369 carte hey google dimmi un numero da 1 a 9 5 bello 3 sud 3 donne ecco come cavolo si fa ma non è mai successo nella storia di super questa cosa non ho mai fatto 3 donne pro prima di tutto il resto asca e valchiria signore quest'oggi abbiamo fatto top more xp for me e anche asca andrà e mi sa anche che lei non l'ho allenata nemmeno su tutte le carte sono ancora a livello 0 madonna mi davo impegnare mi davo impegnare va bene va bene ok ragazzoli finire di video molto bello non mi aspettavo di doveva essere un video un po' teorico dovevo andare a vedere quello che succederà in questo mese e dovevo fare un giro ci ha fatto tutto quello che si poteva fare perfetto va benissimo benissimo ragazzoli io concludo a questo video ci vediamo questa sera a 22.30 in live su Twitch come sempre vi aspetto e niente alla prossima ciao